La crisi nel Mar Rosso sta avendo ripercussioni significative sul commercio globale e sui porti italiani. Gli attacchi degli Hoti dello Yemen contro le navi del Mar Rosso stanno mettendo a rischio l'economia mondiale e anche il porto di Gioia Tauro rischia di andare in grande difficoltà. L'allungamento infatti dei tempi, l'aumento dei prezzi e la diminuzione dei traffici maurittimi causati dall'impossibilità delle navi Carnogo di passare dal Mar Rosso stanno generando gravi problemi per le aziende che operano anche nel porto di Gioia Tauro. Secondo però il presidente dell'autorità portuale Andrea Agostinelli al porto di Gioia Tauro c'è un mantenimento dei traffici. Anzi, dice, addirittura certi traffici sono stati spostati da Malta sul porto di Gioia Tauro e per quanto riguarda il terminalista che fa riferimento al gruppo Grimaldi abbiamo addirittura previsioni in aumento dei convogli ferroviari. Le nostre previsioni quindi non sono pessimistiche. Secondo Agostinelli il vantaggio è soprattutto quello di avere un porto modernissimo capace di ormeggiare le navi portacontenitori più grande del mondo. Il porto calabrese sta vivendo comunque giorni di particolare attenzione a causa dell'entrata in vigore dell'ETS e il nuovo sistema di tassazione delle emissioni inquinanti che potrebbe spingere alla delocalizzazione dei traffici verso il Nord Africa. Anche il tassenso Agostinelli è fiducioso, soprattutto del fatto che il porto di Gioia Tauro possa resistere anche a questo tipo di crisi.